Oh mio dio pre-suitato! Mamma mia 100 col caccia, meno male, che avevo perso mano È scomparso, si è buildato qua dietro, il miserabile Provo la pazzia! Il nuovo starter pack di questa season 3 sta finalmente arrivando Ebbene sì perché come ogni season che si rispetti all'interno del gioco di Fortnite Oltre a portare tantissime novità all'interno del game c'è sempre un nuovo pacchetto iniziale Ma prima vi ricordo se anche voi volete un nuovo pass battaglia gratis di questa nuova season 3 Mi raccomando iscrivetevi ora e attivate la campanella delle notifiche Correte a lasciare subito un bel like per questo video e all'interno del negozio oggetti Andate ad inserire il mio supporto a un creatore R4SCO Questi passaggi semplicissimi vi daranno l'accesso per ottenere il pass battaglia gratis O se avete già il pass battaglia una skin a piacere all'interno del negozio oggetti Oppure addirittura il nuovo starter pack di questa nuova season Quest'oggi andremo a fare un altro regalo ovviamente come ogni giorno Quindi mi raccomando i passaggi sono fondamentali Ordine pagano euro e cinquanta è il costo di questo pass battaglia Grazie l'acquisto è stato completato Perfetto Ma andiamo a selezionare ovviamente come al solito la nostra carta regalo Prendiamo sempre questa rosa con il fiocco celeste perché ci piace tantissimo Invio regali in corso E spero che ti divertirai con il nuovo pass battaglia Tutti i regali sono stati consegnati Vamos Mi raccomando perciò se anche tu vuoi un regalo Only one code Only R4SCO All'interno del supporto a un creatore Io direi andiamo subito a startare una bella partita Un coppie non riempie Meglio chissà tante volte che incontriamo qualche pazzo E andiamo subito a vedere questo nuovo starter pack di questa nuova season 3 Ok perfetto mi sto droppando in questo nuovo zona In questa zona misteriosa anche se diciamo che la conosciamo bene O meglio la conosciamo bene per come era prima Almeno riesco a togliere questi punti interrogativi dalla mappa Vediamo Eccola qui Foschi fumaioli siamo anche arrivati al livello 39 Bene 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 Abbiamo un po' di tempo per lutare un bel po' di armi E soprattutto trovare dei scildini e scildone Nella speranza che non atterri nessuno in questo luogo Almeno posso parlarvi tranquillamente di questo nuovo pacchetto Che arriverà molto presto all'interno del gioco E già perché come sapete se giocate da un po' a Fortnite Ogni season va a rilasciare un nuovo starter pack Nella season precedente siamo andati a vedere uno starter pack Niente male È stato il caso di Iris C'è stata fornita la skin Belle queste splashettine che mi vado subito a fare Anche se non arriviamo a 50 Arriviamo a 40 Comunque not bad Nel pacchetto Iris c'era stata fornita appunto la skin Il backpack Il piccone più 600 V-Bucks Devo essere sincero Ultimamente Fortnite Oh che fortuna Altri Chuck Chuck Me le sparo subito Ultimamente Fortnite Non sta scherzando affatto con i pacchetti Perché sta rilasciando Sta droppando davvero dei bellissimi pacchetti Infatti questo qui che andremo a sbloccare Si chiamerà Yellow Jacket Quindi la traduzione in italiano dovrebbe essere Giubbino giallo Giacchettino giallo Una cosa del genere Certo con non tantissima fantasia Ma per quanto riguarda la skin del concreto È davvero molto molto carina Eccola qui che ve la mostro in anteprima Non è niente male Anche lei ci verrà fornita con un piccone Ovviamente tematico riguardante la skin Quindi anche in questo caso Skin e piccone sono davvero molto molto simili Anche per questa skin andremo a totalizzare 600 V-Bucks Che non sono affatto male Perché il costo del pacchetto sarà di 5€ Quindi andremo ad ottenere I shieldini me li porto 500 V-Bucks più 100 V-Bucks Ovviamente il mio consiglio Come vi dico in ogni season È quello se potete Di acquistare questi pacchetti iniziali Perché sono davvero molto molto vantaggiosi Per quanto riguarda il pacchetto Quindi la skin Quello che andiamo a tornare nel pacchetto E il prezzo Considerate che solitamente Una skin all'interno del negozio oggetti Costa 800 V-Bucks E quindi il comparativo in euro sarebbe 8€ Qui con solo 5€ Andiamo a prendere skin piccone È bello sto shieldone E anche 600 V-Bucks Quindi non è affatto male Per quanto riguarda la data di uscita di questo pacchetto Ve lo dico tra un attimo Perché qui la situazione mi sembra un po' Che mi ha sfuggito di mano Abbiamo sì delle armi Diverse armi Però abbiamo uno squallidissimo AR bianco E anche una mitraglietta bianca GG ve lo stiscildone Però insomma Siamo ancora un po' Con le pezze Arciulla Chissà riusciamo a trovare qualcosa di più croccante Non volevo volare Grazie mille foschi Ok Eccolo qui Io lo sapevo che qua dentro Quella cestarelli Non ci avrebbe deluso Andiamo in safe No 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 Anche se Guardate dove ha chiuso In una zona quasi completamente ricoperta dall'acqua Vediamo un po' Se poi la safe finale Sempre se ci arriveremo Sarà totalmente all'interno dell'acqua Magari non lo so Questa parte qui Oh mio dio sta arrivando la tempesta Not bad Vi stavo dicendo Non sono mai sceso a foschi fumaioli E ora capisco perché Abbiamo Usciamo fuori davvero con pochissimi materiali Perché non c'è nemmeno un albero E non ci sono poi così tante ceste Quindi sì Foschi fumaioli La possiamo debellare Dalle nostre zone di landing Mentre che andiamo in running simulator Oh mio dio Là sopra c'è un tizio Not bad per noi Anche perché se iniziamo un fight Ora sicuramente la tempesta citta E non abbiamo shieldini O meglio non abbiamo cure per la vita Quindi meglio prendere l'high ground Vediamo se riusciamo a hittarlo Anzi preferirei Oh 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 Lì ci sono delle elegantissime Splashettine Hanno appena cecchinato qua sotto Regà Ora possiamo anche inventarci Un certo fight Eccolo qui Si sta proteggendo Mamma mia L'abbiamo frullato L'abbiamo frullato Non lo andiamo nemmeno a killare Regà Dovremmo killarlo in realtà Dovremmo ispezionarlo Per capire dov'è il suo amico Però non mi interessa niente Perché sicuramente se il suo amico È qui in zona Tra pochissimo Ci spara Abbiamo le shock jug Piccoline e ci sentiamo De veri e propri dei Ok abbiamo raggiunto la zona sicura A nuoto Perfetto Mi boxetto un attimino Mi faccio queste splashette È so nice 90 di 100 Peccato per quel 10 di shield Guarda Ok comunque Ci hanno segnalato la kill Oh 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 C'è uno squalo E c'è un tizio nell'acqua Oh my god No No buono Sento lo squalo qua vicino a noi Cerchiamo di ittare quel tizio nell'acqua Che poverino Sicuramente Oh oh È bianco È stra bianco No l'ha puntato lo squalo L'ha puntato lo squalo L'ha ammazzato lo squalo Poverino Certo abbiamo contribuito a questa kill Perché l'abbiamo reso completamente bianco Era veramente one hit Ci portiamo indietro questo medikit E vi continuo a parlare di questo pacchetto In quanto Sembra che la data di uscita ancora non è confermata Però se volete un mio personale parere E solitamente su queste cose ci prendo sempre Lo vediamo questa settimana che viene Quindi sicuramente tra qualche giorno vedremo il nuovo starter pack In quanto nella vecchia ci spara qualcuno Io devo prendere assolutamente questo P90 Non mi builda Oh Non finire i materiali raga No buono per noi No buono Ci prendiamo questo E ce lo facciamo Abbiamo anche uno squalo Ci stanno sparando qui alla sinistra raga Dobbiamo assolutamente andare in safe Nella speranza che lo squalo Oh mio dio lo sento da tiro Lo squalo Non è buona questa cosa Non è buona Ok facciamo così Rompi 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 Speriamo che non ci va a killare Perfetto In quanto in una delle scorse season Il pacchetto iniziale era stato droppato Dopo 5 giorni dall'uscita della season Quindi sicuramente anche in questa nuova stagione 3 Vedremo prestissimo l'uscita di questo nuovo starter pack Ma questo non sarà l'unico pacchetto decente che Fortnite andrà a tirare fuori Mi prendo questo AR blu E vi dico che ci sarà anche un altro pacchetto Però vi do subito una bruttissima notizia Perché quest'altro pacchetto sarà riservato ai giocatori di salva il mondo Come potete vedere viene raffigurato leader delle squadre a delle coccole Totalmente grigio Ed è davvero stupendo C'è uno qua sotto di noi regà Più che grigio in realtà è in metallo Apriamo questa nuova pompa No Aspettate dobbiamo assolutamente riuscire a killare quello sotto di noi Ok Buono 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 C'è anche l'avversario qui Ma non hanno mazzo Cos'è questa roba Oh 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 Ah non riescono a buildare Buono 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 Doppia fantastica questa So nice Più che grigio vi stavo dicendo Il nuovo pacchetto di salva il mondo È più Sembra un colore Sull'acciaio Ed è davvero bello Io infatti sto pensando Sto valutando Se comprare salva il mondo Solo per questa skin Tanto salva il mondo Dovrebbe venire 20 euro Se non erro Proteggiamoci Altrimenti qualcuno ci potrebbe sparare Oh mio dio Oh mio dio Ha buttato giù tutto Ah 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 Meno male che non c'è stato No squalo Ora mi devi far vedere cosa hai dentro di te Oh mio dio Lo devo killare Prima che parte sta tempesta regà Carichiamo il pompa Mi fa fritto nella tempesta Ok Stai tranquillo squalino Sono tuo amico Mamma mia sto game Regà ho fatto un game allucinante Senza materiali Non mi sono proprio reso conto Che devo farmare materiali Purtroppo la nostra zona di landing Foschi fumaglioli È assolutamente da evitare Intanto sparano davanti a noi Noi dobbiamo farci assolutamente Un po' di materiali Altrimenti il prossimo fight Siamo belli che morti Oh ci hanno sparato col cecchino State buoni Mi sto ancora facendo materiali Regà comunque lì ho visto Che c'è il camion Che è del 100-100 Fantastico Non l'hanno ancora rimosso Ok c'è un airdrop Oh un tizio sta andando a prendere l'airdrop Dobbiamo frichillarlo Oh 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 Bello bello bella questa kill So nice questa kill Bene 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 Andiamo a vedere cosa aveva Anzi andiamo a prendere l'airdrop Abbiamo tanto di materiali Regà siamo bersagli di tutti Speriamo che nessuno ci frichilli Oh che cos'è questo No il caccia oro Non so utilizzarlo Ancora il caccia Ho perso totalmente la mano Con il caccia Vabbè dai lo prendiamo uguale Non possiamo lasciare per terra Un caccia oro dai Mamma mia qui la roba Che aveva questo Sì materiali belli puliti Sì meno male Meno male Pompa blu no Ok a tutte le armi blu Tranne che il pompa Ecco perché noi lo faceva costruire Oh ci stanno sparando altri Comunque stavo pensando Salve il mondo Dovrebbe costare ora 20 euro Quindi non faccio una pazzia Se mi vado a scioppare Salve il mondo In quanto sarebbe come pagarla 2000 V-Bucks Alla fine la skin Fatemi un po' vedere Questo tizio maledetto Ora abbiamo i materiali Ci sentiamo invincibili Ok è sotto di noi Sta tipo buildando Si è chiuso È dentro casa il miserabile Penso voglia prendere questa chest Però no mi sembra strano Perché Ok No regà è dentro casa Non vuole uscire Sai che noi siamo sopra Oh mio dio Questa non è una buona posizione Per noi Andiamoci all'interno di questa casa Belli puliti che siamo in safe Ok boxiamoci un attimo Cerchiamo di frichillare Il tizio che era qua dietro Oh mio dio Ho completamente perso cognizione Eccolo Oh mio dio Però è svittato Mamma mia 100 col caccia Meno male Che avevo perso mano È scomparso Eh si è buildato qua dietro Il miserabile Provo la pazzia No Ok Oh mio dio Era l'ultimo Era l'ultimo Oh 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 Nemmeno me ne sono accorto Non volevo prendere il caccia leggendario Beno male che non lo volevo prendere Due shot Anzi tre shot Due andati alla grande Che victory Siamo stati strafortunati Regà Non ho visto gli altri Non ho visto minimamente Che eravamo uno versus one So nice E abbiamo anche livellato Al livello 39 Buono 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 Come al solito Vi aspetto qua sotto Con i vostri commenti Per capire se anche voi Andrete a shoppare Questo nuovo starter pack Della season 3 di fortnite E se prenderete Anche il pacchetto Di salve il mondo Ditemi anche Quale vi piace Tra i due Io penso che le andrò a shoppare Entrambi Perché sono davvero Due skin incredibili Mi raccomando I tre passaggi Per ottenere il pass battaglia La skin O il pacchetto iniziale È totalmente gratis Noi ci vediamo In un altro video Che vi lascio sicuramente Qua una a sinistra E una a destra Scegliete voi Il video che ancora Non avete visto E mi raccomando Forza forza Con questo mi piace Ci vediamo In un prossimo video E le sarà